Buongiorno a tutti intanto. Sì, in questo luogo che abbiamo ritenuto adatto proprio per presentare questi presepi artigianali. Oggi ci sarà l'inaugurazione del presepe nel Feletto. Devo dire che è un luogo tranquillissimo, questo borgo di Santa Maria. Ci sta proprio il presepe. Devo ringraziare naturalmente chi ha lavorato per presentare questi presepi, gli amici del presepe di Santa Maria. Devo dire che sono 22 anni che presentano questo particolare presepe animato. Vi invito a visitare questo luogo. C'è anche un piccolo mercatino per chi vuole. Ma vi invito proprio tutti voi a visitarlo. Io ho il piacere oggi di essere qui per l'inaugurazione dei presepi di Santa Maria di Feletto, San Pietro di Feletto. E inauguriamo appunto i presepi tradizionali e anche i presepi artigianali e artistici. Abbiamo per la seconda volta, per il secondo anno consecutivo, anche le casette di Natale con dei prodotti del luogo. Abbiamo le ancelle appunto di San Pietro di Feletto e abbiamo il centro infanzia di Rotondo delle Ità che ha prodotto, anzi le nonne volontari hanno prodotto dei bellissimi oggetti per Natale. E abbiamo anche il piacere di esporre e proporre i prodotti della Fondazione di Comunità Le Noci e la crema di Maroni che naturalmente, come sappiamo, il devoluto va sempre a favore dei progetti sociali. E' una passeggiata veramente merita, merita a tutti. Vi aspettiamo. Grazie a tutti.